Su fratelli, su compagnie, su venite in fitta schiera, su una libera bandiera, splende il sol dell'avenì. Nelle pene e nell'insulto ci spingemmo il muto patto, la gran casa del riscatto, nion di noi vorrà... Metello Salani era nato in San Nicolò, ma fino ai 15 anni non vi aveva mai abitato. La sua famiglia era di Querrione e ciascuno ha le discendenze che si ritrova. Suo padre, Renaiolo, era stato anarchico e tutti, tra Piazza De Mozzi e La Colonna, l'avevano conosciuto, per la sua bassa statura e il suo pugno proibito. Lo chiamavano Caco e non perché quella gente sapesse di mitologia, ma per via del gruppo del Bandinelli che è sotto Palazzo Vecchio e per dire che era uno che soltanto un Ercole l'avrebbe potuto castigare. Da prima, si raccontava, egli se n'era offeso, poi aveva saputo che Caco era una specie di ladrone e questo gli aveva fatto piacere, siccome i ladri, lui che era onesto, li stimava. Era stato amico non di Pietro, ma di Giovanni Gori e sputtava se gli rammentavano Bakunin, quando Bakunin abitava alle spalle di Santa Maria del Fiore, giusto durante il primo anno di Firenze capitale. Caco e il suo amico Leopoldo, un altro anarchico dal pugno proibito, un ginnasta di circo finito a caffettiere in Piazza Piattellina, erano andati a trovarlo nella casa di Via De Pucci, dove, si diceva, la tavola era sempre apparecchiata per gli amici e per gli sconosciuti, bastava avessero fame. Non che Poldo e Caco fossero affamati, erano le due dopo mezzanotte, magari avevano sete, volevano conoscere Bakunin per dirgli che la smettesse di mazzineggiare e di fare all'amore con Beppe Dolfi il rivoluzionario dai piedi dolci e fornaio in fido. Egli era stato chiuso l'uscio in faccia a entrambi, da una cameriera indivisa. Tutto questo Metello non poteva dire di saperlo, i più anziani, come Betto e come Pestelli, glielo avevano raccontato. Sua madre era morta dandola alla luce e pochi mesi dopo suo padre era annegato in arno, mentre cavava arena secondo il suo mestiere. Gli dissero che la madre era una specie d'angelo che travedeva per il suo uomo piccolo ma forte e gli scodellava figlioli che poi avesse sangue guasto o che non sopravvivevano più di qualche giorno o qualche mese quando non abortiva. Certo, ella non si nutriva come una signora di ricorrere alla beneficenza o all'ospedale degli innocenti per il latte artificiale che occorreva chiederlo con un po' di umiltà per ottenerlo dal momento che il suo era veleno. Caco non glielo permetteva. Così gli erano morti un maschio e due piscione. Caco, in coteste circostanze, pigliava una sbornia, costringeva la moglie a seguirlo con in braccio il morticino, la faceva sedere sugli scalini di Palazzo Vecchio. Lui saliva sopra la base del monumento raffigurante Ercole e Caco e teneva un comizio. Mi chiamo Caco, come quello lì, statemi a sentire. E finiva una volta di più alle murate per offese al potere costituito, per invito alla sedizione o soltanto per ubriachezza molesta a seconda dell'umore del delegato. La morte della moglie e il nuovo figlio che aveva messo a balia dicevano l'avessero cambiato. La verità è che sono riminchionito, egli rispondeva. E perché sono rimasto solo? Una donna come quella, dove la trovo? E proprio adesso che sembrava avere davvero qualcosa da dimenticare, invece di ubriacarsi almeno una volta la settimana come prima, aveva smesso di bere e non passava giorno che non fosse sull'arno a lavorare. Lui, che durante il lustro dell'abbondanza, quando l'arena si vendeva come pane e non si faceva in tempo ad approdare che c'erano i carri delle imprese di costruzioni, pronti a caricarla, usciva col barcone un giorno sì e tre no. Ora, in pieno decennio della carestia, che l'arena si ammucchiava sul greto come i covoni nei campi e i covoni diventavano pagliai, tanto era misera la richiesta, era il primo a trovarsi in arno, appena spuntava l'alba, disposto a cedere una giornata di lavoro per due centesimi. Si era inimicato tutti i compagni di Porticciola che vivevano dello suo stesso mestiere e se qualcuno si azzardava a fargli delle dimostranze, lui borbottava tra i denti. Ho da pagare la balia, questo deve vivere, l'ho promesso a lei. Si sputava sul palmo delle mani come per impugnare la pala, stringeva i pugni, li agitava per aria e gridava sotto, vi piglio anche tre per volta, chi vuol provare? Una mattina, sul finire del 73, l'arno era quasi in piena, da rischiarvi sia a patto che battesse il sole, invece più che casalinghe c'era una nebbia che da ponte alle grazie non si distingueva a giardino Sessistori. Lo stesso caco decise di uscire col barcone. Stò sull'arno da quando eri in fasce, usava a dire, e quel tratto, segnato a metà dalla cloaca chiamata la botte, avrebbe potuto percorrerlo ad occhi chiusi. A tu per tu con l'arno, Ercole sono io. Cotè stamattina, chi si affacciava alla spalletta poteva immaginarsi che l'arno fosse scomparso sotto una nuvola grigia e nera. Caco era solo sul fiume, si portò verso il centro col barcone dove sapeva lui, e a colpi di reni e di sgrullate alla pertica che frugava al fondo, cominciò a tirar su le prime palate di rena. Ogni tanto tornava indietro, poiché l'empito del fiume, sia pure lentamente, lo trascinava verso la cloaca. Lavorava da due o tre ore, era forse a metà del carico che si era ripromesso, e la nebbia, invece di diradarsi, si infittiva. D'un tratto, il barcone incontrò la corrente che dalla botte affluisce del fiume e per un lungo tratto, anche in tempo di magra, l'impazza. Il barcone, pesante com'era, si mise a girare su se stesso. Caco tentò di guadagnare nuovamente il largo puntando la pertica sul fondo con tutte le sue forze, ma il barcone ne riceve una controspinta tanto violenta che lo sbilanciò. Caco si trovò sospeso sull'acqua aggrappato alla pertica, contro la quale, un attimo dopo il barcone, preso nel mulinello, venne a cozzare. L'urto lo sbalzò dalla pertica e il barcone gli fu sopra e gli andò giù a piombo, come se il barcone fosse la lastra che lo chiudeva per sempre nel suo sarcofago d'acqua. Rincine è un paese del Mugello, al confine con la Val di Sieve e anche in quel tempo non c'erano diligenze. Lasciata con te all'onda bisognava inerpicarsi su per i viottoli e le strade carraghe. La terra è avara, ci cresce il castagno, il leccio e i contadini non potendo avere una stalla hanno un ovile. Le donne, appena gravide di tre mesi, già mettono voce in città attraverso le procaccine, ma siccome non sono quasi mai fior di ragazze, non sono una razza pregiata, difficilmente gli capitano delle fortune. Del resto, chi, avendo da scegliere, darebbe al proprio figlio una balia delle montagne di Contea? A parte la miseria tra cui vivono, non hanno, logicamente, nemmeno latte da buttar via, ma se la terra è avara, l'aria è buona, l'alta collina e le aiuta. I figli loro sono diversi avanti tempo e nutriti per anni dall'essenziale, diventano uomini da reggere un aratro. Se non le donne come Balie, i braccianti di Contea, di Vicchio e di Comano, sono apprezzati, è gente di fatica, parca per forza di cose, è diffidente, gelosa del nulla che possiede, ma salda di carattere e buona di cuore a modo suo. Quando nella casa del Tinai si seppe della morte di Caco, gli era stata spedita una lettera per sollecitare il mensile e il corriere l'aveva riportata con su scritto per morte del ricevente. Il capo famiglia fece vestire il figlio Eugenio e la nuora perché andassero a Firenze a restituire il bambino. Ditegli a questo Caco che ci vogliono dieci cittadini per coglionare un contadino e sono sempre pochi. I due tornarono e Isolina teneva ancora in braccio il piccolo Metello. È morto per davvero? E non ha un parente a cercarlo con l'anternino? Il Tinai sbatté il cappello sulla panca del focolare. Sono le nostre fortune, gridò. Dopo cena accese la pipa di terracotta. si era già calmato. La famiglia, Eugenio, la nuora, le due figlie ragazze, il bambino di Isolina in colla alla nonna, era lì che l'ascoltava. Da un po' di tempo a Ricine ci fa buca. Quando capita una disgrazia, ruzzala qui e infila l'uscio di questa casa. Isolina accennò col mento al piccolo Metello che ora teneva al seno. Come si fa a riportarlo giù e affidarla agli innocenti? Dite voi. Era una donna giovane e forse gli si era affezionata perché ha la sua prima maternità e ha il primo a Firenze apposta. Eugenio si teneva il pugno dentro l'altra mano senza alzare il capo disse Abbiamo già provato ma non l'hanno preso ci vogliono le carte. Tirò fuori un foglio dalla tasca e la gittò nell'aria. Si deve andare al municipio di Firenze con dei testimoni e davanti a un notaro l'hanno scritto qui. Isolina aggiunse Hanno detto Chi ci garantisce che questo bambino si chiama così e che al mondo non ha più nessuno intanto ci ha voi altri. Ci vogliono le carte ripetè Eugenio e portare dei testimoni in municipio e davanti a un notaro bisognerà tornare a Firenze tre o quattro volte almeno ci costerà una ventina di lire. Averle disse il vecchio poi disse Allora portatelo alla ruota Ma questo non è mica un innocentino azzardò Isolina ha un babbo e una mamma che l'hanno riconosciuto anche se morti seguì un lungo silenzio infine Eugenio alzò il capo disse Ci hanno preso il nome ora gli innocenti sanno che questa creatura è nelle nostre mani se non ci facciamo più vivi dice che avviseranno i carabinieri di Contea Sono le nostre fortune ripete il vecchio e insolitamente bestemmiò le donne si fecero il segno della croce. Fino a 15 anni Metello visse in campagna a pascolare le pecore assieme a Olindo suo fratello di latte anche se il vecchio Tinai se ne era portato un'invernata di gelo e le due ragazze si erano sposate una con un contadino di Londra ed era poi andata a morire di parto là nelle Americhe dove era immigrate l'altra più fortunata col sottofattore e aveva ritirato con sé la madre la famiglia lo stesso era cresciuta nel corso dei 15 anni a Eugenio e Isolina erano nati altri tre figlioli tutti maschi anche questi a scala e Metello era uno dei cinque non c'era distinzione un orizzonte di ininterrotti crinali aveva delimitato il suo sguardo di fanciullo alte colline chiudevano la valle coi castanni i lecci i cipressi gli olivinani e la sieve fatta apposta per stanarvi i granchi di sotto i massi e tuffarvi sì là dove fa ansa e durante l'estate forma una gran gora era un'età felice forse per questo egli faticava a ricordarsene gli tornavano in mente certi nomi del gregge Nerina Pomera Sorda e il suono dei campani i tramonti col cielo basso e viola che mettevano sgomento più dei temporali anche l'odore di salvia e fagioli che esalava dal tegame collocato in mezzo al tavolo la sera vi si attingeva ciascuno col suo cucchiaio un boccone dopo l'altro e la volta che per poco l'indo non annegava nella gora come tuo padre in arno gli aveva detto mamma isolina così aveva saputo come era morto suo padre la volta ancora che trovarono il guardia della fattoria impiccata a un castagno e Babbe Eugenio era stato arrestato come tutti i contadini di Ricine di Londra di Contea siccome il guardia non si era ucciso qualcuno l'aveva appeso al castagno dopo averlo pugnalato se si è felici dell'incoscienza sì fu un tempo felice lo chiamavano Olindo e gli altri ragazzi pastori il cittadino e questo invece di adirarlo lo compiaceva gli dava importanza lui rispondeva un giorno torno a Firenze e ve lo fu a vedere io nessuno gli sapeva replicare ridevano cosa credi che sia Firenze a volte gli dicevano non c'è più lavoro nemmeno per i muratori tanti dei loro padri e fratelli che erano stati muratori in città erano tornati ai campi o emigrati in Belgio dove ci sono le miniere o in bassa Italia dove costruivano le ferrovie ma come in lui c'era un orgoglio di cui non avrebbe saputo spiegarla ragione così essi nel ripetergli che egli non era uno dei loro non mettevano né asti o né cattiveria se ne sarebbe ricordato un'umiliazione un torto se davvero sono tali e ne soffriamo è difficile che ce ne dimentichiamo del resto Firenze era lontana quasi 30 chilometri più lontana della luna che certe sere sull'aia pareva infilata nello stollo e da toccare arrampicandosi in cima al pagliaio una di coteste sere che spannocchiavano il gran turco e gli aveva detto a Cosetta o le sorbe nascoste dentro il pagliolo lei lo aveva seguito era una bambina dei contadini in orceto un podere vicino era bionda e portava di già il fazzoletto in testa cosa mi dai se le dividiamo vorresti un bacio gliene aveva messa in bocca una e lei lo aveva baciato e per tutta la manciata e la chiese voglio qualcosa di più vorresti fare alla pecore al montone lui si era sentito avampare in viso ma senza dargli il tempo di rispondere Cosetta era scappata di questo certo che si ricordava era un ricordo che chiamava l'altro di quando aveva già 12 anni e Babbe Eugenio era stato arrestato per via del guardia la stessa estate e poi l'avevano rilasciato il guardia nuovo era più perfido di quello morto se due pecore sconfinavano in bandita rincorreva lui e Olindo e li sferzava col frustino sulle gambe un bruciore per giorni e giorni che non si resisteva a tenerci sopra il lenzuolo ora le pecore badavano i fratelli più piccoli lui e Olindo lavoravano nei campi coi genitori Cosetta si fece trovare più spesso sulla sua strada un bacio e scappava egli non le poteva chiedere di fidanzarsi magari in segreto dal momento che si era lasciata baciare anche da Olindo una volta per un pugno di more e una sera Metello l'aveva colta di sorpresa alle spalle che stanava i granchi nella sieve l'aveva rovesciata sul greto ma era forte quanto lui più forte se riuscì a sfuggirgli anche cotè stasera e venne un tempo peggiore l'ultimo alla fattoria li avevano presi di mira ci fu un raccolto più magro del solito gli ripeterono che trascuravano la terra che erano troppe bocche e poche braccia il sottofattore in persona con cui erano imparentati gli minacciava la disdetta il guardia nuovo col fucile in spalla sembrava star di casa sul podere babbe Eugenio diceva non si può durare parlava di Belgio e di miniere fossero stati altri tempi diceva sarei potuto andare a Firenze a fare il manovale in tre o quattro anni sarei diventato muratore ci perseguiterebbero anche lì e l'America è troppo lontana mi parrebbe di non poter più tornare in Belgio ci si arriva col treno finché trovarono chi aveva ucciso il vecchio guardia e babbe Eugenio che ormai aveva fatto le carte lo stesso si decise a partire qualche mese dopo scrisse che Isolina e i ragazzi lo raggiungessero ma non metterlo non l'avevano adottato e quindi non gli davano il permesso almeno per ora gli disse mamma Isolina tu oramai sei un uomo e queste cose le devi capire chissà non sia la tua fortuna ci fanno il regalo di prenderti in fabbrica ubbidisci lavora fatti ben volere del resto in fattoria ora ci hanno ridato la stima e se non vai a stare da degli estranei c'è la sorella del babbo c'è la nonna hai visto la nonna non ci si è trovata bene e da un certo giorno in avanti è come al primo canto del gallo per buio che sia non è più notte se aguzzi lo sguardo vedi baluginare l'alba il ricordo ha una diversa consistenza il treno era scomparso dietro la svolta là dove avrebbe trovato il passaggio a livello che divideva la strada a Carraia era il tramonto era estate giugno il giugno dell'87 Isolina e i ragazzi non avevano sventolato il fazzoletto erano rimasti ammucchiati a un solo finestrino a guardare lui e la nonna che li guardavano Isolina col più piccolo in braccio la nonna con le mani sotto il grembiure non pareva nemmeno che le due donne piangessero l'ultimo a parlargli era stato Lindo nell'orecchio se con Cosetta ci riprovi fammelo sapere c'era ancora nell'aria il fumo della locomotiva e il fischio si faceva sempre più lontano d'un tratto tacque anche la campanella della stazione e si sentirono cantare i grilli e abbaiare un cane la nonna disse andiamo fuori c'era il carro della fattoria e il bracciante che li aveva accompagnati erano discesi col carro fino in Val d'Arno dove passava la ferrovia tra un'ora saranno a Firenze disse il bracciante aviando i buoi la nonna disse speriamo non si sbaglino nel cambiartreno dovranno cambiare sette volte gli hanno scritto tutto è un'anima buona che gli legga Dio non gliela farà mancare Metello le sedeva accanto con le gambe fuori il carro che si era mosso e stava per superare il passaggio a livello il bracciante gli disse vedrai che ti trovi bene in fattoria cittadino meglio che in Belgio e almeno la domenica mangerai come non hai mai mangiato la nonna si aggiustò il berretto ricordatelo specie col guardia si rispettoso